C'è amore nell'aria, mia cara. Al Dolce Amoris stiamo preparando il gran ballo di San Valentino. Quindi dopo il ballo di fine anno c'è anche il ballo di San Valentino. Non vi sentiate mai di ballare. Spero che tu abbia ripassato i passi come si deve. Ripassati i passi. Sembra una canzone di giovanotti. Altrimenti, lasci che il tuo cavalier ti guidi. Oppure fai dei corsi di ballo. In ogni caso sono sicura che sarai la più bella sulla pista. Cioè tipo, se fai schifo almeno sei bella. Oh mio Dio, sono senza gambe qua. Cioè senza gambe, senza il resto del corpo. Sono le calze. Fantastico. Oh no, devo ballare. Ok, ora ho la faccia pure. Beh, inizio con l'Isandro. Ballare. Allora. Oh, è un ritmo game. Fantastico. Istruzioni. Clicca sui cerchi nell'ordine indicato e seguendo il ritmo della musica. Ok. E più i clic saranno sincronizzati. Quindi io roba su qua. No, vabbè, c'ho le cuffie, vero? Quindi voi non sentirete niente. Fantastico. Ok, che è? Più i clic saranno sincronizzati quando il cerchio è sul colore. Più punti totalizzerai. Devi avere una percentuale di riuscita di almeno 60% per vincere la partita e vincere un elemento della tenuta. Ogni livello dura circa 30 secondi. Attenzione, aumenta il volume per giocare al meglio. Infatti la musica ti dà l'indicazione e il ritmo che dovrai seguire. Ok, aumentiamo la musica. Aiuto. Sono diventata sorda. No, era 5. 5. Ma io ci sto cliccando. Era più bello. Poter attaccare. Mi credo è vicino. Non c'è il colore che vuoi. Cos'è? Ah, un marzelletto. Questa. Quanti posso... Ah, posso giocare fino a tre volte? Ma posso ballare con lui? Vabbè, proviamo un altro. Chissà se la canzone cambia. Intanto sono diventata davvero sorda perché la musica era troppo alta. Sì, ho capito come si gioca ormai. No, le canzoni cambiano. No, le canzoni cambiano. Ma vedi che io clicco e non me la prende. Faccio causa il gioco. Dai, sono stata più brava. Ma più... Sì, prima ho fatto 6.08. 87. Cioè, sembra... No, 100 mai. Che... Che brutta. Che è? Una collana? Cintu... Ah, cintura, ok. Mi sembra una collana. Mi sembra una di quelle cose egizie. No, è senza avvalgente gialla. No, io prendo questa. Sì, ok. Quindi sono... Tre volte, ok. Finisco l'ultimo. Facciamo canti. Balla, balla. Balla. Siamo le roteo. Gira. Vai, Kent, in quanto io voglio fare 100%. Vaffan'cù. Manca a dirlo. Ma... Cioè, se non sbaglio almeno due volte non c'è, non ti passo sul gioco. Ma io non ho fatto po'. Fai schifo, Kent. Fai schifo. Allora, hai vinto questa... Cos'è? Un'altra cavigliera. Non si vede manco questo azzurro, va. Ok, quindi ho finito le vite tra tre ore. Oh, non è nessuna partita disponibile, infatti. Ricompense. Ma non mi piacciono le parrucche. Ah, c'è pure l'illustrazione. Oh, allora, questo è Lissandro. Questo è Castiel. Questo è più biondo, quindi sarà Nat e Armin. Secondo me sono tutti loro che ti tendono la manina. Allora, se la trovo già sbloccata, la metto al fine video. Però non lo so. Cioè, io non mi metto a sbloccarla... A prendere il segno di bello che è. Sei sicuro che vorrei pagare per... Mamma mia! Ah, completerai l'istante. Eh no, ma 150 PA è il prossimo episodio, non lo posso più fare. Ah, però acquistare qua quanto costa la partita? Quindi sono 20. No, vabbè. Cioè, per sto giro... Visto che quando ho fatto l'evento di Halloween... Ho spiegato a tutti i pieghi che avevo e ora sono sotto i 700. Non sono sotto i 700 da quando ho iniziato a giocare, in pratica. E quindi evito di comprarmi le partite. Ah, ok. Si può già prendere quello di Eversi. Nice. E dimostra se c'è l'immagine. Eccolo qua. C'è l'immagine di tutte le tenute, così. Allora, venite a ballare. Cerchi colorati, 5 fascinanti ragazzi. Deve riuscire a passare le setanze per ragazzo. Ok. Una partita vi sarà offerta nei 3 ore. Accumulare di 3 volte. Per la più impazienti sarà possibile. Ok. No, avete la possibilità di prendere... No, non li useremo. Tenute elettrizzanti. Ah. Non ci sono le picche delle tenute. Allora, in ballo terminato. Vi vorrei dare un frammento di illustrazioni. Ah, ok. Ci sono 5 pazienti, quindi ogni volta che completiamo un cuoricino, sembra Mystic Messenger. Questo è il cuore di Seven. Questo è di Yo-sung. Questo è di Zen. Questo facciamo Jumin. I-chan-i. Jai-in. E allora, boh. Questo è unknown. Perché è nero. Questo è il video. Quindi, giocando a Mystic Messenger, facendo ballare questi ragazzi... No, scherzavo. Vabbè, fino al 23 febbraio, va bene. Ok, ora vedo se trovo l'illustrazione già bella fatta così. Ve l'è piaccito? Spiaccico a fine video. Buona fortuna con le vostre danze. Spero di trattenermi da non comprare le partite, perché ho bisogno di punti azione, se no col cavolo che faccio i gameplay. E niente, buona giocata a tutte e buon San Valentino nel dolce ruoris. È proprio una pubblicità, perché... Per il mio un fornito ruoliso. Dovittagnittikka a Scherzavo. E cosìungig Bro.